Sono ore e frenetiche di lavoro al conservatorio Giuseppe Martucci di Salerno, le aule sono un ribollire di suono, voci. Ci si prepara la festa della musica del prossimo 21 giugno. Palcoscenico sarà il massimo cittadino, il Verdi, che dalle 21 ospiterà il Puccini Opera Galà. Possiamo definirla assolutamente consacrazione anche perché quest'anno, per un evento tragico che ha visto purtroppo la morte del mio predecessore, non abbiamo inaugurato l'anno accademico e quindi questo evento a cui tengo particolarmente è un po' la sintesi delle attività fatte durante tutto l'anno, quindi anche la sintesi degli sforzi dei nostri studenti che si conclude in questa produzione molto importante e molto impegnativa per le celebrazioni pucciniane che vede il nostro conservatorio, nella fattispecie l'orchestra e il coro dei nostri studenti impegnata in un concerto di gala di arie d'opera pucciniane appunto, unitamente a più di 20 professori dell'orchestra del teatro e dell'opera di Tirana, che è un'istituzione partner con la quale siamo convenzionati da anni per attività istituzionale, di didattica e anche di studio. Quella che ascoltate qui, quella che vedete qui è la sezione degli arti dell'orchestra che sta provando sia per il 21 giugno per la festa della musica quanto per il concerto del 13 luglio effettuando presso l'Accademia di Tallinn in Estonia. Poi siete sempre di più aperti a all'esterno, alla città, è questo un indirizzo che sarà implementato, continuerà? Assolutamente sì, noi siamo molto presenti sul territorio, tra l'altro sta per uscire una scheda sulle istituzioni a Famili Tutta l'Italia, nel nostro conservatorio fa almeno 67-70 eventi di produzione l'anno in almeno 6 o 7 rassegni a tema e 2 o 3 eventi in teatro qui al Verdi. Molte di queste produzioni sono articolate sul territorio della città di Salerno, alcune sono a Napoli, ma molte di queste sono all'estero perché come ho detto nelle mie linee programmatiche prima delle mie lezioni, uno dei miei obiettivi principali è l'internazionalizzazione e quindi la possibilità di portare i nostri talenti all'estero attraverso tutti i protocolli che abbiamo attivi con l'ufficio Erasmus e con tutti i processi di mobilità in corso con un numero impressionante di istituzioni partner. Questo è uno degli ambienti dedicati ai studenti e ai docenti di Tecnico del Suono, va detto che il concerto del 21 sarà dato in streaming e sarà registrato proprio dalle classi di Tecnico del Suono coordinate dai due docenti che sono i maestri Paolo Temini e Stefano Silvestri. Anche quest'anno siamo tra i primi conservatori italiani per finanziamento relativo alle procedure di mobilità Erasmus per internazionalizzazione e quindi dobbiamo mantenere necessariamente questo target molto alto, continuativo nel tempo e sempre più implementato attraverso tutti i procedimenti di coinvolgimento di docenti e studenti nelle mobilità verso altre istituzioni. Tutti i studenti e tutti i docenti del conservatorio possono prendere visione di una libreria praticamente infinita di spartiti musicali che il conservatorio ha attivato attraverso un abbonamento con una società inglese che si chiama Encoda che gestisce praticamente la possibilità di poter visionare spartiti online. Il Martucci era famosissimo per i fiati, sono in tutto il mondo i fiati del Martucci, ora inizia a diventare protagonista anche su canto, su altri strumenti, però voglio ritornare al concerto che ci sarà per la festa della musica, ha già anticipato qualcosa, cosa ci si dovrà aspettare in quella sera? Intanto noi siamo fortunatamente forti in molte sezioni strumentali, abbiamo un ottimo dipartimento di archi, un ottimo dipartimento di pianoforte, recentemente abbiamo inaugurato delle attività sia a Salerno che a Napoli, che pure esporteremo a Tirana, a prestitato dell'opera, appunto dei nostri migliori pianisti. Siamo forti nel canto, siamo forti nel canto pop, nel jazz, siamo forti un po' in tutti i ripartimenti, se ne ho dimenticato qualcuno sicuramente mi perdoneranno, ma tutte le nostre risorse dal punto di vista degli studenti saranno coinvolti appunto nell'orchestra e nel coro in questa performance molto molto importante dedicata a Puccini nel centenario dalla morte. Il programma è sicuramente un programma impegnativo e la cosa interessante è che ai nostri studenti che sono già da professionisti si affiancheranno degli orchestrali, dei professori d'orchestra che sono già professionisti appunto presso il teatro dell'opera e quindi è bello vedere questa sinergia tra professionisti e aspiranti professionisti che realizzeranno un concerto dedicato appunto alla figura di Puccini insieme al coro. Il direttore sarà Jacopo Sibari di Pescassero, un nostro ex docente che attualmente insegna presso il Conservato di Potenza ma che incidentalmente è anche segretario artistico, anzi direttore artistico del teatro dell'opera di Tirana e quindi è un po' il trait d'union con quest'altra istituzione, unitamente alla sovrintendente a Bighella Vostina che ringrazio sempre per le collaborazioni che è appunto il sovrintendente del teatro dell'opera di Tirana, l'opera del balletto di Tirana, spero possa essere presente. Quindi sarà un'iniziativa come dire di suggello anche di attività istituzionali che sono pregresse a questo evento specifico perché ad esempio noi a Tirana inviamo degli studenti con delle borse di studio a partecipare appunto a delle produzioni in orchestra, loro hanno la possibilità con una borsa di studio che noi offriamo come conservatorio di andare a fare delle esperienze sul campo e quindi di comportarsi da professionisti in un grande teatro europeo. Vorrei dedicare l'ultima domanda alle attività che sono anche, catalizzano l'attenzione sul conservatorio, tantissime le domande di potersi formare all'interno di questa storica struttura non sempre riuscite ad accontentare tu. Questo purtroppo è il nostro cruccio, abbiamo come noto problemi di struttura perché questo è un conservatorio molto grande in termini di numero di docenti e di numero di studenti, abbiamo circa 171 docenti e più di 1200 studenti attualmente. Non abbiamo spazio per tutti, siamo il terzo e il quarto conservatorio d'Italia e vorremmo accogliere molti più studenti, non siamo in grado di farlo perché il nostro organico è saturo e anche la struttura non ci dà la possibilità di avere spazi ulteriori da poter dedicare alla didattica. Questo fa sì che siamo costretti ad avere, come per molte università, il numero programmato ogni anno e quindi la conseguenza è che non tutti gli studenti che potrebbero studiare verso il Martucci riescono a iscriversi ai corsi. Questo è un mio cruccio personale, ma purtroppo abbiamo dei limiti oltre i quali non possiamo andare. Tutti quelli che tentano l'esame di ammissione e non riescono ad essere ammessi, avranno la possibilità di riprovare l'anno successivo e magari collocarsi in posto utile per essere reclutati.